Non solo il caldo, ma anche e soprattutto l'AFA. Le alte temperature che si stanno registrando in Italia e che si sono impennate a partire da ieri sono accompagnate da un alto livello di umidità che aumenta il disagio fisico. Le masse d'aria calda trasportate dall'anticiclone africano, attraversando il mar Mediterraneo, si caricano di umidità con giorni e notti tropicali. L'anticiclone africano ha acquistato ieri sempre più potenza, avvicinandosi minacciosamente all'Italia. Questa situazione, quantomeno al centro-sud, dovrebbe durare almeno per altri 10 giorni. Al nord invece, da mercoledì 12, è atteso un indebolimento dell'anticiclone che provecherà i primi forti temporali sulle Alpi. Raccomandazioni utili, non uscire nelle ore più calde della giornata, ovvero dalle ore 12 alle ore 17. Bere almeno un litro e mezzo di liquidi al giorno, in modo da reintegrare le perdite quotidiane di sali minerali. Evitare bevande alcoliche, gassate, troppo zuccherate e troppo fredde. Non eccedere con caffè o tè.